Il porto turistico Marina di Cala del Sole di Ricata nei giorni 10, 11 e 12 del mese di maggio ospiterà il primo forum provinciale del turismo, un evento che ha il duplice scopo di mettere in mostra e presentare la straordinaria offerta turistica del territorio agrigentino sia ad importanti buyer del mercato nazionale e internazionale sia alle migliaia di viaggiatori del mercato provinciale e regionale. Nell'ambito della manifestazione infatti si svolgerà un workshop con annesso educational che metterà a confronto gli operatori interessati a promuovere la provincia di Grigento con gli operatori locali. Verrà allestita un'ampia area espositiva con desk personalizzati che verranno assegnate ai comuni, alle proloco e agli operatori della filiera turistica del territorio. Ampio spazio sarà dedicato all'esposizione e alla degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche locali. Durante la tre giorni si svolgeranno convegni e seminari, due dei quali uno sull'olio e uno sul vino a cura dell'associazione italiana sommelier dedicati agli operatori della ristorazione. Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, sono le parole del Presidente Dorsi, non siamo stati presenti all'ultima BIT, la Borsa Internazionale di Milano. Con questa iniziativa faremo venire direttamente nel nostro territorio tour operator e buyer nazionale ed internazionale, ai quali presenteremo la nostra offerta turistica. Una cosa, continua Dorsi e vedere immagini video, sfogliare brochure e déplianne. Altra cosa è fare toccare con mano quanto di straordinario, in termini di bellezze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, siamo in grado di offrire. Questa piccola BIT provinciale, conclude il Presidente della provincia, ci permetterà inoltre di far scoprire agli stessi agrigentini un territorio, un'offerta turistica interessante e competitiva, capace di soddisfare a pieno, senza andare lontano, il nostro bisogno di vacanze e di relax. L'assessore al turismo, Angelo Biondi, impegnato nell'organizzazione dell'evento, tiene a precisare che la scelta della location di questo primo forum del turismo provinciale è stata fatta per due ordini di motivi. Il primo perché è marina di Cala del Sole e senza dubbio l'infrastruttura finalizzata allo sviluppo turistico più importante e significativo che sia stata realizzata negli anni in provincia di Agrigento. Il secondo motivo perché padiglioni, salaconvegni, spazi espositivi e servizi vari sono stati messi a disposizione in maniera completamente gratuita. Anche per questo, aggiunge Biondi, voglio pubblicamente ringraziare la proprietà del porto turistico di Licata.